guerrieri guerriere buongiorno sentite un po' questa frase perché cercare soluzioni a tutto è un errore che non ha soluzione fra qualche secondo vi spiego perché è la maledizione di chiunque faccia krav maga arti marziali difesa personale gli amici le persone che ti chiedono ma è se uno ti attacca con due coltelli ma è se vieni aggredito da cinque persone una con la pistola una col bastone una col coltello due mani nude c'è un racconto divertente che riguarda i mi il creatore del krav maga e i suoi allievi e uno di questi gli aveva chiesto i mi ci hai insegnato come ci si difende dal bastone come ci si difende dal coltello come ci si difende si attaccano in due ma come ti difendi si attaccano un gruppo di cinque persone armate e i mi aveva risposto ma che cosa hai fatto perché cinque persone armate vogliono attaccarti il fatto è che non si cercano soluzioni in cima a montagne di errori il krav maga è un sistema che abitua allievo a ragionare in modo tale da poter riconoscere e prevenire le problematiche e quindi le situazioni a rischio e a poterle trattare in modo tale da riuscire a trovare una soluzione adatta al problema e non a pensare in anticipo quale potrebbe essere il problema e a cercare di farlo combaciare con una soluzione precostituita quindi riassumendo non soluzioni su montagne di errori ma evitare gli errori senza avere montagne di soluzioni questo è krav maga